In ControlLive è una potente funzione basata su cloud, costituita da una suite di servizi informativi live online progettata con un'attenzione particolare al conducente e al viaggio. L'accesso a live sblocca alcune funzioni avanzate che consentono di creare un'esperienza live più personalizzata, come salvare i collegamenti alle informazioni preferite e abbonarsi agli aggiornamenti live per ricevere le informazioni più importanti durante lo spostamento. Per utilizzare la funzione In ControlLive, inserire una scheda microSIM dati nello slot del relativo lettore situato nel vano portaoggetti della console centrale, oppure disporre di una connessione Wi-Fi. Per utilizzare le funzioni durante lo spostamento è necessaria una SIM dati. La connessione dati del veicolo viene effettuata tramite una scheda microSIM dati. L'uso dei dati dipende dai singoli modelli di utilizzo, ma in alcuni casi potrebbe essere considerevole. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al gestore di rete. Una suite di app live viene fornita di serie e potrebbe includere app relative al meteo, ai notiziari e al monitoraggio voli. È possibile impostare un account In Control tramite il touchscreen del veicolo, oppure visitando il sito www.jaguarincontrol.com barra Owner. Utilizzando il touchscreen, selezionare Live dal menu Funzioni extra. Toccare Accedi, quindi dalla schermata Accesso, toccare Avanti per accedere. Per motivi di sicurezza, è necessario essere fermi per completare la procedura di accesso iniziale. Inserire l'indirizzo e-mail dell'account e toccare OK. Inserire la password dell'account e selezionare OK. Inserire un nickname contenente un massimo di sette caratteri, senza spazi, e selezionare OK. Inserire un PIN a quattro cifre a propria scelta. Selezionando Ricordami, sarà possibile effettuare l'accesso automaticamente ad ogni avviamento del veicolo. Una volta terminato, toccare OK. Reinserire il PIN per confermare e selezionare OK. La schermata Accesso mostra il nickname dell'utente per confermare l'avvenuto accesso. È possibile aggiungere fino a dieci utenti. Selezionare Aggiungi nuovo per aggiungere più utenti. Per uscire, toccare l'icona di uscita. Per accedere al proprio account live, selezionare il nickname dall'elenco e inserire il proprio PIN live. Gli utenti possono essere modificati o eliminati. Per modificare il profilo utente, toccare l'icona di modifica. Selezionare i dettagli da modificare. Per modificare il PIN, è necessario confermare prima il PIN corrente. Quindi, inserire il nuovo PIN e selezionare OK. Per impostare il nuovo PIN, reinserire il nuovo PIN e toccare OK. Vengono impostati i nuovi dettagli. Per eliminare un profilo utente, toccare l'icona di modifica. Quindi, rimuovi account. Selezionare Sì per confermare. Per completare queste operazioni, è necessario essere sempre collegati tramite SIM dati o Wi-Fi. Per ulteriori informazioni su queste e altre funzioni, consultare il manuale dell'utente. Per dubbio assistenza, contattare il concessionario Jaguar Land Rover, che sarà ben lieto di aiutarvi. Non è vero o sentitato.